Un'offerta turistica di aggregazione che in tantissimi aspettavano, ponti tibetani sospesi nel vuoto, in volo da un tronco all'altro, arrampicate tra le fronde e tante altre belle e sane attività da svolgere nel Parco Avventura Pila di Santo Nofrio di Pietramotto e Corvino, che sta accogliendo i turisti già dallo scorso 17 luglio. Appena qualche giorno fa il Consiglio Comunale ha deliberato di affidarne la gestione a tre giovani cittadini del Comune dei Monti Dauni. Far diventare il Parco Avventura un attrattore turistico esperienziale e focalizzare sulla bellissima area della Pila di Santo Nofrio l'interesse e la curiosità degli amanti della natura, dello sport, del benessere è l'obiettivo principale. La struttura di Pietramotto e Corvino, peraltro, è quella dei Monti Dauni che consente di salire più in alto, arrampicandosi sui tronchi secolari del Bosco Omonimo, al cui interno sono custoditi i ruderi di un vecchio convento francescano, che conferiscono ancora più fascino e interesse all'escursione. Abbiamo scelto di premiare il progetto di tre giovani concittadini fermamente intenzionati a non abbandonare il borgo in cui sono nati e vissuti, commenta il sindaco Raimundo Giallella, riattivare il Parco Avventura dopo diversi anni di attività e promuoverne la fruizione non sarà semplice, eppure sono convinto che l'entusiasmo mostrato da Angela, Francesco e Giuseppe, i tre ragazzi aggiudicatari, sommato ai nostri investimenti nel marketing e nell'offerta culturale, darà un ottimo risultato a chi usufrirà del nostro territorio e vivrà i Monti Dauni.